Signor Sindaco, signor Presidente della provincia, facciamo anche noi questa esaltazione corale a tutti quanti perché possa diventare Ariano anche un centro musicale, un divento importante per il nostro contesto. Ariano si candida ad essere città della musica classica. La proposta del numero uno del Conservatorio Cimarosa, Carmine Santagnello, e del Vescovo della Diocesi Ariano Lacedonia, Sergio Melillo, al termine della prima Masterclass. La Basilica Cattedrale è divenuta un palcoscianico d'eccezione per gli studenti del bel canto provenienti dall'Irpinia, dalla Campania e dalla Cina. ... ... Grazie a tutti. E mi auguro che tutti questi giovani possano poi essere presenti nei più grandi teatri, non solo italiani, ma d'Europa. Il motivo che guida tutto il Master è stata la famosa frase di Tolstoi, la bellezza salverà il mondo. E a mio avviso il canto, l'arte, è proprio la bellezza e la voce di Dio che si incarna qui e ora.